Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono DGR99 e oggi vi parlerò di due squadre che ho compilato e che metterò a confronto sul consiglio di Gabriele, un mio amico. Ma prima di iniziare, vi volevo ringraziare per il boom di visualizzazioni che ha avuto il video su YouTube anch'io, che ha superato le 900. Mi farebbe molto piacere se arrivasse a 1000, quindi magari dopo aver visto questo video puoi andare nella sezione video di YouTube, ordinare per il più popolare video che ho fatto io, devi scrivere ordina per il più popolare e ti uscirà il video su YouTube anch'io, dovrebbe avere intorno alle 900 visualizzazioni. Se magari tu potessi passare in quel video mi farebbe molto piacere. Bene, iniziamo il video di oggi, infami controbandiere, iniziamo dagli infami, infami diciamo traditori, quelli che hanno tradito la propria squadra, parecchi sono della Serie A e della Roma. In porta ho messo Thibaut Courtois perché ha tradito l'Atletico andando a Real Madrid, da Chelsea a Real Madrid. Kolarov dalla Roma all'Inter, Hummels dal Bayern, dal Borussia al Bayern e dal Bayern al Borussia, quindi un tradimento doppio, così come Bonucci che ha fatto un tradimento doppio dalla Juve al Milan e poi di nuovo alla Juve. I dipensori recenti hanno fatto un tradimento doppio, Dani Alves che non è un vero e proprio traditore ma non sapevo chi mettere, comunque è stato in Juve, Barcellona, Paris Saint Germain, eccetera. Nengolan dalla Roma all'Inter, Pjanic dalla Roma alla Juve, Luis Figo dal Barcellona a Real Madrid, Ibrahimovic che è stato in Milan, Juve, Inter, quindi ha tradito un sacco. Higuain dal Napoli alla Juve e Ronaldo Fenomeno dall'Inter al Milan e ha tradito pure il Barcellona. Diciamo che è un'ottima squadra, forse il centrocampo rispetto a quelle le bandiere è meno forte, però in attacco sono veramente fortissimi, Ronaldo Fenomeno, Ibrahimovic e Higuain è veramente un attaccone, anche in difesa comunque sono forti. A mio parere però le bandiere sono meglio, voi però ditemelo nei commenti. Ora vi leggo la squadra del bandiere, in porto ho messo Buffon, potevo mettere anche Oliver Kahn, però l'avvino preferito Buffon perché il portiere bandiera è lui. Maldini, bandiera del Milan, Sergio Lamos, bandiera del Real Madrid, Maggio, ex terzino del Napoli, attualmente del Benevento, Chiellini, bandiera della Juventus, Amsic, bandiera del Napoli, Maradona, bandiera del Napoli, Zanetti, bandiera dell'Inter, Del Piero, bandiera della Juve, Totti, bandiera della Roma, Messi, bandiera del Barcellona, ma è inutile che ve lo dico, lo sapete già di chi sono bandiere, però giusto per sicurezza, per illustrare meglio. Allora, qualcuno di voi potrà dire, ma manca Cristiano Ronaldo, eh ragazzi, ma non potevo metterlo né al posto di Messi, né al posto di Totti, né al posto di Del Piero, perché la vera bandiera del Real Madrid è Sergio Lamos, è stato più tempo e comunque non si toccano questi attaccanti. L'unica cosa è che avrei anche potuto mettere Oliver Can, come detto, al posto di Buffon, dirmi nei commenti se preferivate Buffon o se dovevo mettere Oliver Can, o Neuer, qualche altro portiere bandiera. In difesa abbiamo messo maggio, perché comunque è stato parecchio tempo nel Napoli, centrocampo Amosic e Maradona, in Napoli c'è in questa squadra. A mio parere vincerebbero le bandiere, perché comunque Messi, Maradona, Del Piero, Maldini sono giocatori che fanno la differenza. Anche se comunque i traditori con Ronaldo il fenomeno, Ibrahimovic, Dani Alves, ma anche Alain Golan, Figo, non scherzano. Anche se, a dire la verità, io pronosticherei un 2-1 per la squadra delle bandiere, perché diciamo che la squadra dei traditori è formata per di più da giocatori che giocano attualmente, a parte qualcuno, e quindi sono meno forti, mentre le squadre delle bandiere sono formate da leggende, quasi tutte leggende, pochi giocano ancora adesso in questa squadra. Bene ragazzi, io ho detto tutto, mi raccomando passate nel video di Youtube Anch'io, potete cercare Youtube Anch'io di GR99, vi esce, oppure video, ordina per i più popolari, comunque mi farebbe molto piacere se tu guardessi quel video, perché se arrivasse a mille. Bene, ditemi quale squadra preferite, quale vincerebbe secondo voi, e se dovevo aggiungere qualche giocatore magari toglierne a qualcuno.